Ciao amici, bentornati su Giugissima e benvenuti ad un nuovo video in cui parlo di bullet journal. Ho fatto altri video sul mio bullet journal, in particolare la pianificazione di novembre e dicembre, quindi andateli a guardare se vi interessano. Ma in questo video, visto che l'anno nuovo sta per iniziare, vi mostrerò passo passo come iniziare un bullet journal per organizzare la vostra vita. Per me personalmente, utilizzare il metodo bullet journal ha rappresentato un passo fondamentale verso una vita più organizzata, produttiva, ma allo stesso tempo più tranquilla e felice. Se volete approfondire l'argomento, vi consiglio di leggere il libro The Bullet Journal Method di Ryder Carroll, che esiste anche in italiano e si intitola Il Metodo Bullet Journal, e vi lascio il link nel description box. Questo è il libro che io ho letto per iniziare il mio bullet journal, ma comunque la maggior parte delle tecniche che utilizzo saranno contenute in questo video. Iniziamo! Questo qui è il bullet journal che ho utilizzato per il 2020, l'ho acquistato da Tiger Copenhagen, che c'è anche in Italia. L'ho pagato poco, non ricordo quanto, ma tra i 3 e i 5 euro, credo, ed è molto resistente, sono stata molto molto contenta di averlo utilizzato e avrei voluto acquistare lo stesso, ma non sono riuscita a reperirlo quest'anno, perché il negozio di Tiger vicino a casa mia ha chiuso e l'altro in cui sono andata non ce l'aveva. E quindi l'unico che ho trovato qua a Copenhagen, nei negozi in cui sono stata e non ho avuto molto tempo di cercare, è questo qui, che credo sia anche abbastanza famoso, nel senso che credo sia un brand che in molti utilizzano. È molto più caro rispetto all'altro, credo di averlo pagato più di 20 euro. Però ho anche deciso di provarlo, perché a quanto pare è molto famoso, ed è anche approvato, tra virgolette, da Bullet Journal, cioè Bullet Journal Method, il libro. Quindi lo proverò per quest'anno, visto che ho dovuto fare questo investimento un po' obbligato, e vi farò sapere come mi trovo. Quindi per prima cosa lo spacchettiamo. Peraltro nella cartelleria in cui sono andata non avevano molti colori, e i pochi colori che avevano non mi piacevano, quindi alla fine l'ho preso nero. Ok, ringraziamenti. Ok, qui c'è una piccola guida che in realtà è contenuta già nel libro, The Bullet Journal Method, del quale vi ho parlato. Ah, ecco, perfetto, c'è già l'indice. Questa è una cosa che trovo molto utile. Se stesse utilizzando un Bullet Journal semplice, senza queste facciate qui, lascerei circa quattro pagine, anche qui ne sono state lasciate quattro, per l'indice. Quindi andrei a numerare tutte le pagine del Bullet Journal, che in questo qua sono già numerate, quindi le andrei a numerare a mano. E dopo utilizzerei questo per l'indice, in modo da ritrovare tutte le cose all'interno del Bullet Journal. Se per esempio nel mese di aprile pianificate un viaggio che dovrete fare a settembre, è utile avere nell'indice la pagina in cui avete fatto quella pianificazione, in modo da poterlo trovare immediatamente e non dover sfogliare l'intero Bullet Journal. Quindi questa è una cosa che trovo molto utile. Questo è il Future Log, del quale avevo letto qualcosa anche nel Bullet Journal Method, ed sono praticamente le pagine in cui si scrivono tutte le cose che devono essere pianificate per il futuro. Per esempio, se all'inizio del 2021 sapete che ad un certo punto vorrete andare dal dentista, ma non sapete ancora quando, scrivete qui andare dal dentista o prenotare appuntamento dal dentista. E poi ogni mese andrete a riguardare il Future Vlog, guarderete tutte le cose che ci sono scritte, cercherete di sistemarle in parte in quel mese e poi in parte nei mesi successivi. Guardiamo ancora cosa c'è alla fine. Ah, c'è una piccola guida su come si utilizza il Bullet Journal. In realtà vedo che sono le stesse cose che sono scritte nel libro che ho letto, semplicemente in maniera ovviamente molto più condensata perché il libro è molto più lungo, però penso possa essere utile per chi compra questo Bullet Journal e non ha letto il libro. Ah, qui c'è una tasca per inserire dei documenti, delle cose, qui dentro. E poi qui ci sono degli stickers. Ok, e qui inizia il Bullet Journal vero e proprio. Quindi ricapitolando, se non ci fossero state tutte queste cose all'interno del Bullet Journal, io inizierei qui scrivendo indice e lasciando quattro pagine vuote e numererei tutte le pagine dall'inizio alla fine del Bullet Journal. Dopodiché procederei facendo quello che sto per fare adesso. Tutto ciò per dirvi che io ho comprato questo Bullet Journal, lo dico ancora una volta perché non ne ho trovato un altro, questo qua probabilmente è il più famoso ed è anche il più costoso, ma potete comunque acquistare qualunque Bullet Journal, anche quello da Tiger che io vi consiglio molto. Come sempre io inizio con un pochino di arte, quindi adesso mi vedrete disegnare qualcosa, devo pensare a che cosa, e poi dopo questa prima parte mi vedrete procedere con la pianificazione vera e propria. Grazie a tutti. Per la mia prima pagina del 2021, ho deciso di riprodurre The Great Wave of Kanagawa, che è un dipinto dell'artista giapponese Okusai. L'ho modificato leggermente, qui in realtà ci sarebbe un'imbarcazione che viene travolta dall'onda, ma ho pensato che fosse un po' troppo catastrofista, considerando l'anno dal quale veniamo e le speranze che nutriamo nei confronti del 2021. e quindi l'ho voluta un po' reinterpretare con questa scritta 2021 sopra l'onda, quindi siamo noi che cavalchiamo l'onda di questo anno nuovo, probabilmente se dovessimo raffigurare il 2020 sarebbe qua sotto da qualche parte, e si riferisce anche un po' alla speranza che nutro di poter finalmente andare in Giappone nel 2021. Queste quattro facciate qui sono dedicate ad un overview dei mesi, per cui per ciascun mese andrò a scrivere eventi importanti, oppure viaggi si spera, compleanni e cose del genere, cioè cose che già so, e le vado a scrivere anche man mano che procedo con i mesi, per esempio se con la pianificazione mensile sono arrivata a marzo, perché è il mese di marzo, ma so già che ci sarà qualcosa a settembre e so che me lo dovrò ricordare, andrò a scrivere qui a settembre questa cosa, cioè mi farò una nota in modo che poi quando andrò a pianificare il mese di settembre potrò inserire questa nota. E poiché questa overview occupa le pagine dalla 7 alla 10, lo andrò a scrivere nel mio indice, e quindi qui andrò a scrivere mesi, pagine quindi da 7 a 10. Queste sono le due pagine, obiettivi e idee. Per quanto riguarda gli obiettivi, io in realtà ho una concezione un po' particolare di obiettivi, nel senso che non scrivo eventi che si devono realizzare, oppure veri e propri obiettivi, come per esempio perdere 10 chili o leggere 100 libri. Normalmente negli obiettivi io inserisco delle abitudini, per esempio fare yoga almeno due volte alla settimana, oppure leggere almeno mezz'ora al giorno, ma non metto un vero e proprio obiettivo. In questo modo riesco a focalizzarmi di più sul processo, su quello che faccio, ed essere più felice e sentirmi realizzata in ogni momento della mia vita, e non pensare sempre di lavorare sodo in vista di un risultato. Ho parlato di questo aspetto quando ho trattato il tema della motivazione sui sei tipi di intelligenza. Per quanto riguarda le idee, qui invece è molto semplice, si tratta semplicemente di idee che mi vengono in mente, si può trattare di qualunque cosa, ad esempio qualcosa da ricercare online, oppure una mostra da andare a vedere, può essere veramente qualunque cosa. Queste sono le mie due pagine biblioteca. Ogni scaffale corrisponde ad un mese, qui c'è scritto il nome del mese, e qui andrò a scrivere e disegnare tutti i libri che avrò letto a gennaio, poi febbraio, marzo e così via. Mi piace avere un'idea dei libri che ho letto durante l'anno e sapere quando li ho letti, quindi questo è lo scopo di queste pagine. E ora vado a riportare queste due pagine sull'indice, quindi 13 e 14. Ed ora ho pressoché finito, perché da qui in poi inizierò a pianificare il mese di gennaio e poi i mesi successivi, e man mano, se per esempio dovrò pianificare lo studio in una determinata materia, utilizzerò delle pagine del bullet journal ovunque io mi trovi nel bullet journal quando lo sto pianificando, e andrò semplicemente a riportare il numero della pagina nell'indice. In questo modo non devo pensare all'inizio dell'anno a tutti i possibili tipi di pagine che devo inserire all'inizio dell'anno e non rischio di sprecare delle pagine magari per obiettivi, piani, progetti che poi in realtà non saranno rilevanti. Quindi per darvi un tour finale del bullet journal, ok, qua il mio indice, questa è la pagina iniziale del 2021, i primi sei mesi, gli ultimi sei mesi, obiettivi e idee, e la mia libreria. Il bullet journal ha ben tre segnalibri di colori diversi, questo è molto utile perché ne posso tenere uno nella settimana corrente, uno nell'indice e l'altro all'inizio del mese. Spero che il video vi sia stato chiaro, vi sia piaciuto e vi abbia convinti ad iniziare il bullet journal per il 2021. Lasciatemi un commento, mettete un like ed iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti, e seguitemi su Instagram dove posto molti contenuti di studio e spesso parlo del mio bullet journal. Io vi auguro buon 2021, buon inizio anno nuovo, vi abbraccio forte e ci vediamo nel prossimo video.